...le presento io per dovere di cavalleria, eccola qui. Allora, mantieni un attimo la mia scaletta, Tonio. Allora, le bimbe, mi piace che sulla scaletta c'è scritto bambine femmine. Questa è bella, se ha bambine mascole, ancora non ha... Vabbè, comunque, partiamo dalla numero uno, sei anni, da Santa Lucia, Anita Mariconda, eccola! La nostra bella Anita. La mia Anita mi ha guardato con un sguardo minaccioso, mi diceva, un fabbattuto buono a me. Le fiducia sono delle consumante modelle. Brava Anita, un applauso per lei. E nella numero due, scendere in pista, Alessia La Penna, di undici anni. Sempre proveniente da Santa Lucia. Andiamo velocemente alla numero tre, si data di Benedetta Dorrino, di sette anni. Proveniente da Santa Lucia, eccola! Con il suo numero ben visto, numero tre. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba, proveniente sempre da Santa Lucia. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. Bene, velocemente andiamo alla numero quattro, che è Giulia Bonerba. ecco lei è praticamente al limite tra baby e girl e come quasi fare la miss perché si fa il stato prossimo potrà fare da 15 anni in su bene grazie Rosa Maria Maria Agnes ed è la volta di Maria Carmela Petruziello con il numero 6 6 anni per lei proveniente da Cesinani vai applauso alla nostra Maria Carmela vuole sentirsi incoraggiata dal pubblico adesso andiamo a Giulia Petruziello invece la numero 7 di 11 anni proveniente anche da Cesinani sicuramente sarà la sorella credo, vero? ancora un applauso anche per lei più grandicella rispetto alla sorellina e rapidamente sempre più andiamo con il numero 8 Clara Gloriante 6 anni proveniente da Santa Lucia vai Clara con i suoi bei capelli biondi bene Clara bene Clara andiamo a Daniella numero 9 infatti Daniella bove di 7 anni sempre proveniente qui da Santa Lucia momento di pentimento esco o non esco e come sempre la nostra Tonia prende in braccio i bimbi indecisi e porta la nostra fanciulla in passerello facciamole un applauso di incoraggiamento Bonina vai tutta tua la passerella ancora un applauso bene si prende tutto il tempo lei dal consumante professionista e la numero 10 invece Martina D'Angelo di 6 anni proveniente sempre qui da Santa Lucia brava lei merita un applauso ulteriore lascia il posto la numero 11 che è Teresa Guadagno di 6 anni sempre di Santa Lucia vai Teresa e dopo Teresa Guadagno scende in passerella la numero 12 Chiara è Chiara Gaeta di 6 anni di Mano Calzati e adesso è la numero 13 a scendere in pista si tratta di Diana Pia Martone 10 anni di Santa Lucia vai Diana bene grazie Diana nella volta della 14 Inma Carmen e la numero 15 Anna Vale credo 5 anni proveniente da Napoli e la numero 15 e la numero 15 si tratta di Maria Pia si mi faccio questa passeggiata chiamo chiamo bene Maria Pia un applauso forte forte anche per te adesso è la numero 16 adesso la numero 16 che dovrebbe chiudere il gruppo lei è Lucia De Luca di 6 anni di Santa Lucia di Serino vai ancora un applauso e lei chiude la paserella delle nostre bimbe adesso attenzione dopo questo momento di bellezza di Santa Lucia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti